Lecce della Cesena, partita ricca di gol anche a Brescia, apre le marcature alla diciassettesimo Caracciolo, cinquantesima rete in Serie A per l'Airone. Dopo due minuti il raddoppio del Brescia con Zoboli che sembra chiudere la partita. E la Lecce riapre però dopo dodici minuti il match alla trentunesima infatti arriva la rete del 2-1 firmata da Corvia. Nella ripresa alla settantesimo il gol del definitivo 2-2 di Munan, 19 reti, solo oggi pomeriggio.